Buonasera, bentrovati a tutti amici e amici, bentornati e bentornati tutti nel canale di Aldo Angeli. Sono contento di aver visto successivamente Dario Coaglia che abbraccio e saluto qui da Prato nel suo nuovo canale. Martedì sera mi ha mi ha fatto compagnia diciamo durante il turno poi sono intervenuto a fine del video con qualche commento e poi dopo una volta tornato a casa libero da lavoro ho riguardato in differita per bene tutto il video di Dario in modo da fruire anche delle immagini e dei documenti che lui ha messo a disposizione. Quindi sono molto contento di aver visto Dario indipendente e determinato nel portare avanti le sue ricerche come ha sempre fatto. Quindi gli auguro tante buone cose e tante buone ricerche delle quali vero anch'io cercherò di usufruire il più possibile. Poi per un canale giustamente che che nasce non vi voglio dire che ce ne sia uno che muore perché il mio canale rimane comunque aperto e attivo sono arrivato diciamo alla fine della narrazione per quelli che sono i miei mezzi della vicenda mostro di Firenze e anche perché la misura in generale mi sembra molto colma colmissima direi. Io posso solo dire questo che sono contento di aver cominciato a parlare di questa tragica storia attraverso il mio canale il 14 giugno 2021 e sono contento perché con voi ho potuto approfondire tutta l'inchiesta ufficiale reale che ha riguardato la vicenda mostro di Firenze. L'inchiesta reale è Pietro Pacciani assassino seriale unico dal quale si sviluppa un altro troncone d'indagine i presunti complici vanni lotti faggi eccetera dal quale si sviluppa un altro troncone d'indagine il presunto mandante dottor Francesco Calamandrei assolto. Questa è l'inchiesta ufficiale reale che ha riguardato i duplici delitti dal 1968 al 1985. Processo Pacciani processo Vanni Lotti processo Calamandrei. Basta. Tutto quello che viene dopo è nulla. Tutto quello che c'è stato prima non ha portato a nulla. Questa inchiesta ha portato a quella condanna striminzita che conosciamo che avrebbe dovuto chiarire 17 anni di 12 delitti. Ecco io sono contento di aver potuto condividere con voi tutto questo. L'inchiesta reale ufficiale perché è l'unico modo per capire un'inchiesta criminale. Oggi si parla solo di cose che girano intorno alla vicenda mostro di Firenze ma non c'entrano assolutamente nulla. Come l'americano la tesi la teoria dell'acqua qualcuno mi ha commentato sul mio canale il signor Magnotta Mario un papiro signor Magnotta Mario che con il quale io sono stato ai Duento l'ho mandato a fanculo e gli ho dato del coglione e del ridicolo perché chiaramente come dico sempre se io ti faccio un video di mezz'ora per ribadire dal mio punto di vista e in base all'articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana che mi permette di esprimere liberamente il mio pensiero e le mie opinioni in base a questo io ti faccio un video di mezz'ora dove ti dico che secondo me l'americana non c'entra nulla con i duplici delitti e il signor Magnotta Mario mi scrive un papiro per volermi convincere del contrario cioè allora io come devo prendere una persona così che vuole vedere per forza Gio bevi l'acqua all'interno della vicenda allora partiamo il presupposto da cui partire è sempre questo se Francesco Amiconi avesse fatto degnamente il suo lavoro di giornalista oggi non saremo qui a discutere sulla possibile presunta non colpevolezza chiaramente di Giuseppe bevi l'acqua perché il giornalista amicone con l'audio della confessione presunta dell'americano si sarebbe recato da Luca Turco a dire guardi non è che ho solo concetture impressione intuizione ho una registrazione che io le dico a essere di quella persona lì che mi ha confessato il suo modus operandi per l'America e per Firenze lei non può non approfondire e Luca Turco di fronte a una prova schiacciante come quella non avrebbe potuto fare altro che approfondire per forza quindi avremmo avuto Francesco Amiconi da un lato nell'olimpo del giornalismo italiano e mondiale universale direi e poi avremmo avuto un pubblico ministero Luca Turco che avrebbe risolto grazie a l'intuizione e al buon lavoro di un giornalista la vicenda mostro di Firenze e la vicenda Zodiac e anche Luca Turco sarebbe diventato all'interno della magistratura un idolo se tutto questo però non è successo vi dovete chiedere perché non si può dire soltanto la procura fiorentina ha snobbato Francesco Amiconi perché sembra anche qui vedete sembra che una procura non abbia un cazzo da fare che non aspettare il primo che gli porti un esposto un dubbio e la procura magari ci può anche guardare dentro ma se poi non esce nulla di concreto che dovrebbe fare la procura continuare a fare che è quello che non si comprende io vi vorrei anche rammentare che per esempio nel 2018 il PM Luca Turco stava seguendo due almeno due se non di più però due inchieste molto importanti quella sulla fondazione open di Renzi presunti finanziamenti illeciti corruzione non lo so che e un approfondimento in merito alla strage di via dei georgofili del 93 quindi due temi cazzo mafia e corruzione che saranno importanti e ti si presenta questo il giornalista dice scusi può approfondire la figura di questo americano in base a cosa chiede Luca Turco in base alla tesi dell'acqua ma mi pare a voi che un pubblico ministero che ha a che fare con inchieste come quelle che vi ho detto si debba mettere anche a perdere tempo e ce l'ha perso su cose così fantasiose andiamo sui punti che mi ha contestato tra virgolette il signor magnotta mario allora sentite bene io di tutti questi punti che mi ha contestato che secondo lui mi ha suggerito anche quello che io avrei dovuto dire no secondo lui dice faceva prima dire lei che non conosce la vicenda zodiac la vicenda amicone non la vuole approfondire perché lei è onestamente convinto che si trattasse di un uomo di stato cioè lui ha dato per scontato che io non abbia approfondito nell'una e nell'altra mi spiego sembra strano ad una persona come lui che qualcuno possa approfondire un po la vicenda zodiac e l'inchiesta amicone e dire secondo me non conta nulla a lui sembra strano capite una delle obiezioni allora secondo il commentatore magnotta mario pagnotta magnotta non mi ricordo male comunque dice turco archivia violando violando l'articolo 408 comma 3 bis del codice di procedura penale perché avrebbe archiviato luca turco in sordina cioè di nascosto come se il procedimento fosse suo di luca turco e capite questo signore si è dimenticato il jeep il jeep non c'era turco si sarebbe messo in tasca il fascicolo auto archiviandoselo eh no l'ha presentato al jeep e ha detto lui guarda secondo me non ci sono elementi per continuare l'indagine jeep tu che ne pensi e jeep mancuso credo e ha detto effettivamente possiamo archiviare di rimando se il jeep avesse detto a luca turco tu non archivi proprio nulla secondo me jeep qui ci sono elementi per approfondire ancora sulla figura dell'americano e tu vai avanti con l'indagine perché per gerarchia è così quindi se anche a luca turco non fosse piaciuto indagare di fronte a una sollecitazione del jeep avrebbe dovuto per forza luca turco continuare a indagare sull'americano capite quindi ha archiviato tutto di nascosto no ma scusate da chi pensa che una persona totalmente strana ai fatti per la vicenda mostro di Firenze possa essere non solo l'assassino di Firenze ma anche quello d'oltre oceano che cosa ti vuoi aspettare se non complotti poi mi dicevano a me che ero complottista e già qui turco avrebbe archiviato per punto suo senza dire niente al jeep quindi se c'è una responsabilità innanzitutto dico io denunciate turco allora denunciate anche jeep e denunciate tutta la procura poi ci penserà il consiglio superiore della magistratura a dire se il comportamento di turco e del jeep sia stato giusto o sbagliato invece di scriverlo in rete ha violato avete presentato denuncia a seguito di questa violazione domanda il punto due ancora l'interlocutore colui che ha scritto il commento accusa ancora la procura di aver passato qualche velina eh al giornalista Stefano Brocioni per via di un suo articolo della Nazione del 2 giugno 2018 dove Brocioni scrive per l'inchiesta bevi l'acqua di pista già morta quindi pensano loro furbi no dice hai visto qualcuno della procura gli ha passato qualche elemento di indagine a Brocioni che sarebbe un reato far uscire dal proprio ufficio determinate informazioni vedete no in modo che Brocioni potesse cominciare già a scrivere sul giornale che la pista insomma è un qualcosa che conta poco eh non gli è venuto in mente a queste persone che Stefano Brocioni essendo da molti anni al giornale la Nazione e avendo collaborato per sì o per forza con la procura possa anche venire in possesso di informazioni non voglio dire riservate però informazioni che possono trapelare e poi scrivere sul giornale visto che lui conosceva sicuramente il personaggio di Gio bevi d'acqua scrivere poi sul giornale quello che lui pensa il giornalista e dire da quello che si evince e dai primi sviluppi dell'inchiesta scrive Brocioni mi sembra a me che quella dell'americano sia una pista già morta però vedete si vuole insinuare tutte queste cose qui tutta questa malafede da parte della procura a carico di Gio bevi l'acqua chissà perché però poi si vorrebbe far passare il fatto che la procura in questa ipotetica velina che avrebbe passato a Stefano Brocioni non si dice poi che la procura ha tenuto aperto comunque tre anni un fascicolo tre tre eh allora se per la procura fosse stata una pista già morta una volta consegnata questa velina a Stefano Brocioni dopo tre mesi avrebbero chiuso l'inchiesta su Gio bevi d'acqua non dopo tre anni quindi vedete anche una contraddizione nelle stesse parole di questo commentatore che non sa neanche lui più che pesci prendere la procura di sottobanco da delle veline a Brocioni per dire che la pista non conta nulla però la tiene aperta ancora tre anni questo non è il massimo dello scrupolo no no poi andiamo avanti andiamo avanti parla l'interlocutore della richiesta del dna respinta da Turco per il caso criminale di Zodiac cioè secondo l'interlocutore Turco si come procura della Repubblica si sarebbe dovuto far carico di inviare il materiale genetico di Bevilacqua agli investigatori che si occupano del caso Zodiac e chiaramente io dico io che cazzo gliene frega alla procura della Repubblica di Firenze di Zodiac domanda ma che la procura della Repubblica di Firenze ha mai collaborato con gli investigatori americani al caso Zodiac mai nel passato è successo il contrario gli uomini dell'FBI hanno collaborato con la procura del della Repubblica di Firenze per stilare un possibile profilo criminale di questo soggetto in base alla documentazione inviata loro dagli investigatori italiani lì c'è stata una collaborazione ma mai il contrario non c'è mai stata una collaborazione in senso inverso della procura della Repubblica di Firenze per Zodiac e allora perché cazzo Turco avrebbe dovuto spendere soldi ulteriori ancora per appurare un profilo genetico di un caso che riguarda gli Stati Uniti d'America Zodiac è un caso criminale che riguarda gli Stati Uniti d'America non l'Italia quindi anche qui ma ascoltate il punto ecco il punto più dirimente secondo Magnotta Mario è che Bevilacqua avrebbe omesso di dire che suo genero di Bevilacqua provenisse proprio da San Francisco città strettamente legata a Zodiac eh capite Turco non avrebbe dovuto indagare solo su Gio Bevilacqua ma anche sul suo genero perché il genero veniva da San Francisco legato a Zodiac e che cazzo c'entra allora bisognava attenzionare tutti quelli che provenivano da San Francisco verso l'Italia ma che cazzo di discorso è solo perché Magnotta Mario vede in Gio Bevilacqua Zodiac capite ma non è così un conto è avere un sospetto come se ne può avere su tantissime persone come ce l'ho io il sospetto su una persona reale esistente interna allo Stato che ha collaborato con l'ambiente che conta almeno in due o tre anni sicuri dall'ottantuno all'ottantatre ed era vicino a Vignatrico Mitrella Monica non è un personaggio di fantasia neanche Gio è un personaggio di fantasia è fantasia quando lo si vorrebbe questo assassino dei due mondi capite sulla base di che del nulla e ci si dovrebbe anche credere sulla base della teoria dell'acqua ora Valeria Vecchione ha fatto un grandissimo lavoro di ricerca quello è una sua medaglia che nessuno potrà mai toglierle ci mancherebbe altro e quello è una scoperta uno studio una ricerca talmente importante ed essenziale anche che è stata presa ed inserita dalla procura all'interno del fascicolo o dei fascicoli che riguardano l'inchiesta mostro di Firenze quella ormai è un fatto accertato dimostrato la lettera è stata composta con quella rivista lì va bene e questo non lo toglierà mai nessuna Valeria poi lei si è convinta dal retro delle lettere di seguire questa teoria dell'acqua è una teoria sua non mi interessa io non io non ci credo io non vado a puntare il dito contro qualcuno in base alla teoria dell'acqua stiamo scherzando che sarebbe quella che avrebbe dovuto seguire Luca Turco un pubblico ministero abituato bene o male ad avere a che fare con dati oggettivi per mandare qualcuno in galera sarebbe dovuto stare lì a scervellarsi con codici tesi dell'acqua per arrivare a cosa a che bella pazienza su il sospetto è un discorso su questa persona su questo personaggio si è già costruita tutta una storia è già stata costruita la storia alle spalle di questo personaggio capite o no la differenza tra un'ipotesi e additare ad una determinata persona certi comportamenti non solo a lui tutti quelli che l'avrebbero dovuto coprire l'unica cosa seria che ha detto questa persona riguarda la testimonianza di Joe Bevilacqua a processo però anche lì si è lasciato andare perché ha detto anni anni dopo no poi Bevilacqua nei rapporti nei verbali ha sostanzialmente affermato di conoscere Pacciani quindi si è smentito quando nel 92 e nel 94 disse di non averlo mai conosciuto questo invalida la sua testimonianza che rese a processo e che fu dice lui no determinante scatenante per condannare Pacciani almeno in primo grado a 14 ergastere allora determinante io non lo so su 454 pagine di sentenza sapete Bevilacqua in quante pagine viene rammentato? 9 9 9 la sentenza ogni bene fonda il suo pilastro sulla testimonianza annesi e da lì ogni bene ricollega tutte le altre testimonianze secondo lui minori che danno un quadro preciso secondo ogni bene che lo portano a convincersi che Pacciani si trovasse quella notte a scopeti basta ma non è solo la testimonianza Bevilacqua quindi se però noi mettiamo in fila tutte queste testimonianze allora lì ci sto se si deve invalidare la testimonianza Bevilacqua per delle cose non vere che Bevilacqua ha detto bisognerebbe anche inficiare tutte quelle testimonianze che tutte insieme hanno portato poi la corte ad orientarsi verso un pensiero colpevolista nei confronti di Pietro Pacciani quindi la testimonianza di Nesi la testimonianza del Longo Ivo la testimonianza dello Iacovacci tutte queste andando ad unirle alla testimonianza di Bevilacqua ti danno allora un certo quadro del procedimento penale a carico di Pacciani era lui a processo imputato di essere l'assassino allora sì ma se da una falsa testimonianza ci vogliamo poi andare a creare delle fantasie vogliamo parlare in base alle fantasie bene come mai Longo Ivo ha detto delle falsità palesi come mai Longo Ivo si reca presso gli uffici della Sam per riferire del quasi incidente con il Pietro Pacciani sulla Siena Firenze in direzione Firenze dove allo svincolo per San Casciano questa macchina si mette in maniera brusca nella carreggiata costringendo il Longo a fare una manovra d'emergenza eccetera eccetera lì Longo riferisce di essere a bordo della sua Citroen DS Citroen DS Citroen DS una settimana dopo lo stesso Longo lo stesso signore si presenta in corte di assise convocato riferisce la stessa circostanza e alla domanda del pubblico ministero che macchina aveva lei in quella occasione e Longo Ivo dice una campagnola mi sembra ora una campagnola è una chip una campagnola è una chip quindi come fai a sbagliare una settimana dopo il mezzo che tu hai riferito appena una settimana prima che poi Longo Ivo aveva tre mezzi la Citroen DS la chip campagnola un Alfa GTV 2000 oltretutto una macchina sportiva quindi tre macchine tre mezzi completamente diversi che non possono essere confusi Longo si sarebbe potuto confondere se avesse posseduto una panda una uno ed una tipo per esempio se una o due di queste tre macchine avessero avuto anche un colore simile Longo Ivo avrebbe potuto sbagliarsi tra una panda una uno ed una tipo avrebbe potuto sbagliarsi ma come fai a sbagliarti tra una Citroen DS e una GIF vuol dire che non stai dicendo il vero e non l'hai detto né in corte di assise e neanche prima bisogna vedere dove non hai detto il vero hai mentito negli uffici della SAM o hai mentito in corte di assise che sarebbe ancora peggio ma anche negli uffici della SAM che si va ad inquinare una testimonianza che non è proprio genuina fare no quindi anche qui vogliamo crearci la suggestione sul test Jacopacci Edoardo poliziotto in forza alla Digos dal 1980 al 1991 guarda caso ci starebbe in pieno con i duplici delitti degli anni 80 in poi per dire no persona molto vicino all'ambiente anche lo Iacovacci persona di un fisico notevole robusto alto una persona immensa Edoardo Iacovacci e a detta sua mentre ogni bene stava lì al computer a scrivere che ascoltava e non ascoltava alle domande del pubblico ministero lo Iacovacci dice chiaramente quando il pubblico ministero chiede come mai andava agli scopeti come fa a conoscere quelle zone perché si stava recando a San Casciano e lo Iacovacci dice mi stavo recando a San Casciano per l'ora di pranzo per motivi miei privati personali un test no che in corte di assise ti dice di avere motivi privati personali non esiste perché se il presidente della corte vuol sapere quali sono quei motivi privati e personali tu glieli devi dire capite ogni bene invece faceva finta di non sentire motivi privati personali che poi nell'ambiente tutti conosciamo quali fossero questi motivi privati e personali alle dieci e mezzo lui si trova già nella piazzola di San Casciano a legge di giornale e da San Casciano a Scopeti praticamente sono lì quindi diciamo che si è mosso per tempo eh Edoardo Iacovacci per essere lì a pranzo alle dieci e mezzo è già lì a Scopeti va bene e poi sempre alle domande del pubblico ministero dice come conosce lei di Scopeti è un luogo che c'era passato altre volte lei e Iacovacci che dice sì perché io quando sono libero dal servizio mi piace girare da solo per la periferia di Firenze amo la periferia di Firenze in un processo dove si sta discutendo la morte di 16 persone assassinate in maniera violenta e la maggior parte di esse assassinate proprio nella periferia di Firenze e dintorni arriva un test così della Ligos un poliziotto che ti viene a fare questo tipo di discorsi allora se volessimo volare con la fantasia se volessimo volare con la fantasia uno come lo Iacovacci ci starebbe dentro diecimila volte di più rispetto a l'americano per dire no se volessimo lavorare di fantasia e allora a tutti quelli che parlano dell'uomo dello stato l'uomo dello stato la tesi no dell'uomo dello stato che non è una tesi quello che non volete capire è questo l'idea dell'uomo dello stato ne ho dato io una tesi che poi ho messo qui sul canale per rendere alle persone un'idea di quello che io volessi dire in base all'uomo dello stato ma questa figura che non è detto che sia quella in cui mi sono imbattuto io questa figura che però faceva parte dell'ambiente che era molto vicino all'ambiente che conta è venuta fuori da tutta una serie di elementi che riguardano l'inchiesta ufficiale non le cazzate non le fantasie vuoi risolvere diciamo l'enigma dell'uomo dello stato che guardate è un qualcosa che se non può essere confermato e questo sarebbe a vedere certamente non può essere smentito il discorso dell'uomo dello stato perché per smentire il discorso dell'uomo dello stato bisogna andare a smentire o eventualmente meglio a chiarire tutti questi punti che ora vado a delencarvi ecco perché l'uomo dello stato non è slegato dall'inchiesta ma viene fuori dall'inchiesta vuoi risolvere l'idea dell'uomo dello stato benissimo dovresti darti la pena di sapere perché la procura pur avendo acquisito la lettera dell'anonimo fiorentino del 18 novembre 1991 che avvisava del gingillo nell'orto la procura non è intervenuta è rimasta lì inerte ha preso questa lettera la intercettata quella che avvisava del gingillo e se l'è tenuta sotto chiave la procura non ha fatto nulla esattamente sei mesi dopo nell'orto del pacciani sarà ritrovato un gingillo come mai perché la procura è rimasta inerme questo è un aspetto vuoi scoprire sull'uomo di stato devi arrivare a capire chi all'interno dello stato abbia messo quella cartuccia nell'orto del pacciani quella cartuccia di cui la procura non si è minimamente preoccupata sei mesi prima di dire ma chi è che ci accusa di una possibile frode processuale nei confronti di pietro pacciani ma vogliamo andare a vedere e ufficialmente non sono andati a vedere sono rimasti lì vuoi risolvere l'enigma dell'uomo di stato devi capire devi capire esattamente chi sia stato a inviare la lettera con l'embo di seno e anche le lettere con i proiettili se non vengono chiariti questi aspetti non potrei mai chiarire o smentire l'uomo dello stato ma voi pensate davvero che su quei proiettili non abbiano fatto le dovute comparazioni anche con il dna di cui si parla oggi voi credete davvero che con l'avvento delle tecniche di indagine e con il miglioramento delle stesse vigna e la procura nel tempo non abbiano sottoposto ad analisi determinati reperti se ve lo vengono a dire a voi ve lo vengono a dire e quindi bisognerebbe scoprire chi ha mandato no chiaramente a maggior ragione la lettera con l'embo di seno e le lettere con i proiettili se vuoi scoprire qualcosa in più sull'uomo di stato se vuoi scoprire sempre su quella strada lì ti devi chiedere dove si è andata a finire l'indagine che piero luigi vigna ha promosso all'interno della procura e ha promosso nella stretta ricerca di persone frequentate dalla dottoressa della monica silvia e fra quelle persone non c'erano soltanto parenti e amici e c'erano anche colleghi eventualmente vuoi scoprire qualcosa in più dell'uomo dello stato devi sapere o scoprire o chiarire dove siano quelle carte che riguardano questi principi di indagine promossi da piero luigi vigna dove sono dove sono dovresti scoprire perché la dottoressa della monica non si sentisse tutelata all'interno del suo ambiente cioè della procura perché abbia scritto documenti ufficiali presso il procuratore capo se vuoi capire qualcosa in più dell'uomo dello stato e infine dovresti capire gli appelli televisivi di piero luigi vigna come mai ci ha messo la faccia in televisione vigna e guardate che quando vigna era in televisione a fare quegli appelli e per lui era un momento molto ma molto ma molto complicato per la vicenda mostra di firenze il vostro sospettato si trovava già a nettuno libero quieto senza che nessuno lo sorvegliasse in grazia di dio felice come una pasqua l'americana e vigna invece si trovava a firenze tutto preoccupato per questioni che sapeva lui chiaramente e non era preoccupato da giù bevi l'acqua capite ora che cos'è la vicenda dell'uomo di stato è tremendamente legata a tutte queste cose che vi ho detto e ve ne ho dette solo alcune non sono entrato nel merito di tutte quelle che vi ho evidenziato nel corso degli anni se vuoi scoprire l'uomo di stato devi chiarire tutti questi aspetti e tutti questi aspetti possono confermare l'uomo di stato o potrebbero anche smentirlo in toto ma fino a che non vengono chiariti questi poi voi potete parlare di tutto quello che volete ci mancherebbe altro potete puntare il dito e accusare chi vi pare poi se anche voi sarete querelati saranno cazzi vostri voglio dire a un certo punto il mio povero nonno diceva che male cercato non è mai troppo quindi se poi si insiste si insiste alla fine poi uno verrà che li trova no per forza ma posso stare io a ascoltare una vicenda criminale perché di questo trattiamo con i discorsi e i commenti gli attacchi personali tra segnini e valeria vecchione ho letto i commenti sotto all'ultimo video di antonio segnini che riguarda proprio zodiac l'uno che rimpalla le responsabilità all'altro si dovrebbe vergognare lei no si vergogni lei segnini che dice a valeria vecchione lei sta infangando un uomo accusandolo di cose gravissime senza uno straccio di prova senza uno straccio di indizio antonio segnini che lo dice a valeria vecchione che lui ha scritto un libro dove definisce lotti un assassino che non si evince da nessuna parte da nessun atto da nessun principio di indagine risulta lotti come è possibile assassino anche qui è nella mente di antonio segnini cioè lui che parimenti accusa lotti senza uno straccio di indizio e prova tanto meno anche lì concetture no rimprovera a valeria vecchione di fare la stessa cosa e stanno entrambi infamando e calunniando un personaggio si è ridotta a questo la vicenda mostro di Firenze allora sapete giustamente no parlatene voi parlatene voi perché non ha più senso discutere in questi termini perché viene discusso tutto meno quello che conta e allora qui io lascio l'onere allo stato perché è solo lo stato che potrà chiarire o smentire l'idea dell'uomo dello stato soltanto divulgando tutte le carte che riguardano l'inchiesta ufficiale quella che vi ho detto si potrà chiarire la vicenda del mostro di Firenze per un verso o per l'altro altrimenti no altrimenti la storia resterà sempre così come fatemene una ragione poi ascoltate chi vi pare ascoltate tutte le fantasiose ricostruzioni che volete per l'amor di Dio e ricostruzioni storiche dove però si vorrebbe no una persona come un pluri assassino neanche di mondo di due mondi quindi io non so più che dire quello che vi dovevo comunicare ve l'ho comunicato vi ringrazio per aver seguito fino ad oggi in questo canale io proseguirò nelle mie ricerche personali che riguardano questa persona mi auguro di trovare anch'io qualcosa che possa confermare o smentire la sua possibile vicinanza con i duplici delitti ma vedete pur essendo questa qui che io vi dico una figura molto interessante per quanto mi riguarda e non è che mi sono messo a fare video fantasiosi su di lui allitando chissà che cosa perché non si fa questo ancora non avete capito che è un canale garantista io mi batto ogni volta a livello ideologico contro le ingiuste detenzioni e poi dovrei andare a puntare il dito contro persone che sono rimaste fuori dalla vicenda mostro di Firenze invece che concentrarmi su quelle che ci sono finite dentro grazie a tutti